Su travelnews24.it arriva la nuova rubrica per gli amanti dei viaggi decisamente originali. Vacanze, facciamole strane. Il nome di questa nostra nuova sezione dove è già possibile trovare spunti per esperienze indimenticabili come stare a tu per tu con uno squalo, ad esempio andare a caccia di tornado o provare un tuffo da vertigini dalle cascate vittoria. Tutte le curiosità sul nostro sito.